Albano attaccato da Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, mia mamma sa cose che. Albano Carrisi è stato duramente attaccato e in parte anche ingiustamente attaccato, dalla figlia di Ornella Muti, per lui una casa amica. . Naike Rivelli ha postato una foto del cantante insieme alla sua mamma e ha scritto delle parole poco carine che fanno pensare a cose cattive. Un attacco inaspettato e un po' strano quello che Naike Rivelli rivolge ad Albano Carrisi. Il cantante di San Marco Cellino, molto amico di Ornella Muti, di certo non si aspetta di essere attaccato sui social proprio da lei. Ecco cosa ha scritto Naike nel suo ultimo post. Naike, la verità suo padre e l'accanimento contro Albano. Mentre Albano pare si stia avvicinando di nuovo alla sua ex-moglie Romina Power, sui social appare una sorta di attacco nei suoi confronti da parte di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti che poche settimane fa ha scoperto di non sapere chi è il suo vero padre. Insomma, una storia la beautiful quella di Naike che rischia di assumere trame ancora più complesse. Il motivo? L'inspiegato e improvviso attacco sui social ad Albano. Leggendo le sue parole, non c'è un vero e proprio messaggio diretto al cantante, ma pare dalla foto postata sia proprio lui il destinatario della frecciatina. Il post contro Albano. Da tempo Naike è costantemente protagonista di bufere su social, per via delle sue foto sempre meno coperte e le dichiarazioni sconvolgenti. L'ultimo post su Instagram rischia di incendiare di più gli utenti sul web. La Rivelli posta la foto della mamma Ornella Muti, insieme al cantante Albano. Il commento alla foto è piuttosto enigmatico, per alcuni è un vero rebus, per altri una frecciatina ai segreti del cantante che mamma Ornella conoscerebbe. I fan del cantante, infatti, si chiedono cosa volesse dire con quelle parole Naike e soprattutto perché postare quella foto col cantante? Quali sono i segreti del cantante pugliese? Speriamo che presto Naike dia delle spiegazioni. Grazie a tutti.